Salve a tutti, siamo qui al Teatro del Maggio, stiamo preparando La Madama Butterfly. Io sono Laura Verrecchia ed interpreto il ruolo di Suzuki. Io sono Svetlana Axenova e canto La Madama Butterfly. Ecco, questo che è appena passato è il nostro Pinkerton. Vi invitiamo ad essere numerosi perché è un'opera bellissima, un bellissimo allestimento di Chiara Muti. Una nuova produzione, è ritornato il maestro. Scusa, vuole anche essere. E il maestro Ivan Ciampa, è molto emozionante questa produzione, davvero molto struggente. Abbiamo lavorato molto sui personaggi, sui rapporti, meno di giapponesità. Certo, certo. Cerchiamo di darvi le emozioni vere, quelle che sono scritte. Degli esseri umani. Insomma, vi faremo un pochettino piangere e anche liberare il cuore. Vi invitiamo a partecipare numerosi. E vi promettiamo di regalarvi una grande serata piena di emozioni, passione e amore. Grazie. 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 Grazie.